Ciao a tutti, distruggi i blocchi inconsci e le negatività Meditazione In questo video voglio fare una meditazione con te per distruggere i blocchi inconsci e le negatività Prima di iniziare però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei video e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco Ti ricordo che se arriveremo al quorum necessario a fine giugno farò un seminario gratuito sulla seduzione di tre ore per cui magari se ti va diffondi questo video o altri video di questo canale ai tuoi amici in modo tale da raggiungere il quorum dell'iscrizione Ti ricordo che inoltre attivo il servizio di abbonamento al canale se ti abbonerai al canale, a questo canale qua se hai bisogno di accedere a avere delle risposte precise alle tue domande attraverso questo abbonamento farò delle live specifiche mirate per raggiungere il tuo obiettivo, per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo rispondendo alle tue domande specifiche E adesso veniamo a questa meditazione per distruggere i blocchi inconsci e le negatività Mettiti in una posizione comoda tranquillamente con la schiena eretta ma non tesa le braccia rilassate le spalle rilassate e poi chiudi tranquillamente gli occhi e mentre sei con gli occhi chiusi e respiri porta tranquillamente l'attenzione sul tuo respiro senti l'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni e mentre l'aria entra e esce dai tuoi polmoni ti rilassi sempre di più e per approfondire il tuo rilassamento fai tre respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti e poi espirandola fuori fino in fondo con la bocca è il termine di questi tre respiri profondi quando sei entrato, entrata in uno stato di rilassamento che via via diventa sempre più profondo iniziamo a distruggere tutti i blocchi inconsci e tutte le negatività per fare questo utilizziamo una metafora la nostra mente emotiva la nostra mente inconscia capisce le metafore capisce le parabole lo sapeva bene Gesù che parlava per metafore parlava per parabole la nostra mente emotiva sa cogliere il significato delle parabole delle metafore e le realizza e allora per distruggere i blocchi inconsci e le negatività utilizziamo la metafora della mongolfiera mentre continui a respirare tranquillamente e ascolti il suono della mia voce ti chiedo di immaginare te stessa o te stesso su una mongolfiera una mongolfiera che è bloccata al suolo è bloccata al suolo da dei lacci da dei cavi che rappresentano le negatività rappresentano i blocchi inconsci rappresentano le tue paure le paure di agire la paura di fare la paura di essere una persona libera in grado di decidere una persona libera in grado di conquistare e mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce e i respiri visualizza te stesso te stesso nel cestello della mongolfiera con tutti questi blocchi che tengono la mongolfiera bloccata al suolo ma tu hai il fuoco per produrre aria calda che soffia all'interno della mongolfiera e inizia a spingere questa mongolfiera sempre verso l'alto inizia a spingerla sempre verso l'alto ma ci sono questi blocchi che non la fanno partire e allora adesso intervieni tu e vai a sciogliere il nodo il primo laccio che tiene bloccata la mongolfiera della tua vita questa mongolfiera rappresenta la tua vita e vai a sciogliere il laccio delle paure delle tante paure che ti tengono bloccata bloccato al suolo visualizzati mentre sciogli il nodo delle tue paure mettici tutte le energie necessarie finché questo nodo è completamente sciolto e adesso che il nodo con questo sforzo è completamente sciolto la mongolfiera ha un sussulto inizia a muoversi sempre di più verso l'alto e adesso tu agisci sul secondo nodo sul secondo laccio il laccio delle negatività delle maldicenze dei giudizi negativi devi imparare a fregarti in assolutamente e quindi per fregartene meglio sciogli questo nodo il nodo delle negatività il nodo delle maldicenze mettici tutto l'impegno ecco il nodo si è sciolto la mongolfiera ha un altro sussulto una spinta verso l'alto resta ancora un laccio il laccio dei veleni mentali gli attaccamenti e la rabbia e tutti i loro derivati mettici tutta l'energia inizia a sciogliere anche il terzo laccio il laccio degli attaccamenti il laccio della rabbia che costituiscono i veleni mentali mettici tutta l'energia è l'ultimo vincolo mettici tutta l'energia eccola hai sciolto e adesso la mongolfiera viene sospinta verso l'alto da un vento gagliardo sta iniziando ad andare sta iniziando a salire inizia a salire sempre di più e via via che sali provi uno stato di benessere uno stato di forza uno stato di capacità entri in una dimensione di potenza di te stesso di te stesso tutti i tuoi obiettivi adesso sono raggiungibili perché ti puoi spostare puoi andare dove vuoi la mongolfiera ti consente di raggiungere qualunque obiettivo di raggiungere qualunque luogo e adesso che hai questa consapevolezza di poter raggiungere qualunque obiettivo qualunque luogo acquisisci uno stato di tranquillità di tranquillità di benessere di forza e di rilassamento quindi tranquilla tranquillo puoi fare tre respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti espirandola fuori con il naso e al termine di questi tre respiri profondi inizia a muovere le mani le braccia le spalle e per finire apri dolcemente gli occhi consapevole di aver fatto un percorso molto importante per esserti liberata e liberato di tutti i vincoli di tutti i blocchi di tutti gli attaccamenti bene questa meditazione è una meditazione molto utile puoi farla tutte le volte che vuoi anzi consigliato farla anche una o due volte al giorno puoi farla anche ascoltando questo questo video ti porterà sicuramente dei benefici per eliminare e distruggere consapevolmente i blocchi inconsci e le negatività ora io l'ho fatta in modo generico però volendo se tu sai che c'è qualche blocco o qualche negatività particolare puoi inserirla questa è una metafora che funziona molto bene lascia nei commenti qua sotto quello che pensi e poi iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e se raggiungiamo il quorum necessario a fine giugno farò un seminario gratuito sulla seduzione di tre ore e poi se hai bisogno di risposte specifiche alle tue domande puoi abbonarti al canale abbonandoti al canale potrai accedere a delle live specifiche per abbonati dove riceverai risposte alle tue domande per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao